Il ritorno agli eventi in presenza è una grande opportunità che ben si coniuga alle attività di employer branding online degli ultimi due anni. Menarini non si è mai fermata ed oggi ha la possibilità di selezionare i migliori candidati grazie alla convivenza di queste due modalità. Volevano sapere ragazzi se i laboratori di quality control fossero presenti in tutte le sedi. Vediamo nella slide, in Germania ne abbiamo due a Berlino, una a Dresda, in Spagna, a Barcellona, in Turchia, a Istanbul. Ritengo che con la mia empatia e la mia voglia di lavorare attivamente in modo dinamico in un'azienda io possa essere una grande risorsa per Menarini, allo stesso tempo imparando da un'azienda come questa come poter vivere in un ambiente multiculturale. Sono una ragazza sicuramente intraprendente e curiosa anche e solare. Nuovamente in conti in presenza Milano, poi a Pisa. Il colloquio è andato molto bene, sono molto soddisfatta, è stata una conversazione molto interessante. Le pari opportunità sono un valore irrinunciabile e un valore che deve essere una colonna portante all'interno di un'azienda. Sono valori per me irrinunciabili. La risorsa che cerca Menarini è la persona, una persona unica, una persona autentica. Garantiamo a chi entrerà nel gruppo Menarini pari opportunità e la possibilità di portare con sé la propria curiosità, la propria conoscenza, i propri valori, lavorando così in un contesto sempre più inclusivo. L'azienda Menarini concentra soprattutto i suoi principi su proprio l'inclusività e sull'essere tutti uguali e penso che sia importante e che ti fanno sentire proprio parte già della famiglia anche quando in realtà ovviamente siamo dalla parte opposta. Ma assalama!